The End per Carola Puddu. La talentuosa ballerina ha dovuto salutare la scuola di amici di Maria De Filippi. Venendo eliminata al ballottaggio con Dario nel corso della puntata in onda sabato 16 aprile, l'addio al talent show della giovane ha smosso una marea di critiche. Tantissimi telespettatori che hanno reputato assolutamente sbagliata la decisione di «far fuori» la danzatrice che, nel momento in cui si è ritrovata a un passo dalla conclusione della sua esperienza nella trasmissione di Canale 5, è scoppiata in lacrime dichiarandosi persino a Luigi. Altro artista del talent con il quale ha avuto un a sostegno di Carola, poco dopo l'eliminazione, è intervenuta anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 21. La compagna di San Giovanni ha commentato su Instagram il percorso della collega. Confezionando delle parole che hanno raccolto oltre 17.000 likhè e centinaia di commenti «Finisce qua il mio percorso ad amici» ha spiegato in un post Instagram Carola. Il giorno successivo all'eliminazione. «Sette mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff. I maestri. I miei compagni. E voi. Che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei…» Maestro Alberto Montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento. «Terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita». E ancora. Ambetta sei sempre stata un'ispirazione. Lavorare in sala insieme a te è stato molto prezioso. Grazie. Michele Esposito. Questo non lo leggerà subito. Ti ho osservato e studiato in sala. Ti ammiro per il ballerino e la persona che sei. Spero di riballare con «Spazio» quindi ai ringraziamenti a tutti i professionisti della danza con cui si è interfacciata lungo il suo cammino scolastico ad amici. Grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili. Ho pianto. Ho riso. Mi sono disperata e anche divertita. Grazie per i vostri insegnamenti. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Ciele. Andate avanti così come vi ho lasciati. Siete i miei protetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.